Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferry, o se preferite Melochi abbiamo Carotone, che ancora non ha scoperto che il Natale è finito, io qui mi sono a Ieni felici, Banania, sono qui per un video rapidissimo, chiaramente potete intuire già dal titolo che lo scopo sarà quello di farvi più grandi auguri per un felicissimo inizio dell'anno prossimo, inutile dire che dobbiamo tutti far finta che questo giorno sia importante e che da domani la nostra vita cambierà, ovviamente, e poi volevo darvi qualche notizia rapidissima, sarà un vlog particolare, senza tagli, senza nulla, volevo dirvi che appunto sto preparando diversi video, al momento sto giocando Dragon Quest Heroes, sul quale scriverò anche un articolo sul sito Cinefios, farò un prims al riguardo, i soliti video speciali dove appunto discuterò la mia esperienza, sono già a volpunto, poi ho in cantiere un video che è già pronto, uscirà presto su The Order, sto scrivendo un video su Final Fantasy Type-0, la versione chiaramente HD per PlayStation 4, e ho anche qui, per la gioia di moltissimi, mentre il mio cappellino continua a suonare, questo, signore e signori, che sarà, viste le mie scarse finanze al momento, la prima e ultima volta che comprò il libro di questa collana in formato fisico, quindi le prossime volte non vedrete il libro, dovrò guardare da schermo per leggere la trama, perché non posso, non ho né il denaro né lo spazio al momento a casa mia, per poter tenere questi mattoni, mattoni per dire. Ci ho detto quindi, vi ho dato una breve idea su quelli che saranno i prossimi video, spero di poter ricominciare quanto prima a fare le Wiesong, purtroppo il mio fiato causa allergia e una vita un po' sedentare in questo periodo mi ha abbandonata, quindi ho qualche difficoltà, ciò non di meno voglio assolutamente riprendere, perché ho in testa tante cosine carine, oltre a queste campanelline sopportabili. Ci ho detto appunto vi saluto, vi auguro di nuovo una felice Capodanno, non mangiate troppo, non bevete troppo, state attenti, bla bla bla, non vi drogate, o meglio non vi drogate più di quanto vi drogate di solito, e basta, io sarò con la mia famiglia, i miei adorabili, simpaticissimi e tranquillissimi fratellini di sei anni, quindi farò il Capodanno della gioia familiare, vi invidio un poco, ci si vede nel prossimo video, ci si sente, mi raccomando fatemi sapere che se avete qualche proposta per qualche altro video, qualche altra pianificazione fatemelo sapere come al solito, ci si vede presto, all'anno prossimo, ciao!